Al via la campagna abbonamenti dell'Aquila Calcio 1927 per la stagione sportiva 2016-2017 con il motto Riprendiamocela. Gli abbonamenti saranno validi per 16 giornate interne e si potranno sottoscrivere nella sede operativa dell'Aquila Calcio nel complesso Gran Panorama. La novità di questa stagione spiega la società in una nota è la Tessera Baby che è stata pensata come iniziativa di fidelizzazione per i piccoli e piccolissimi tifosi rosso-blu, i cui genitori al prezzo simbolico di 5 euro potranno sottoscrivere per i loro bambini il primo abbonamento per l'Aquila Calcio 1927. Ogni anno sarà riproposta questa iniziativa dedicata ai più piccoli. La società chiarisce che nel momento del passaggio al nuovo stadio di Acquasanta sarà offerta anche la possibilità a tutti gli abbonati dei settori tribuna centrale e laterale tramite un Open Day o comunque attraverso iniziative dedicate di conoscere il nuovo posto nello stadio di Acquasanta.